bentornati amici e amiche sul mio canale di derston oggi andiamo a vedere un deck nato rinato anzi grazie al nuovo mini set di assassinio al castello di natria ovvero vedremo il ritorno del jade droid non so se ve lo ricordate un deck molto vecchio che ha visto varie evoluzioni e poi è scomparso dal formato selvaggio perché non più abbastanza competitivo bene è bastata una carta del nuovo mini set per farlo tornare in auge o meno questo è quello che penso io secondo me questo se rifinito a dovere perché il deck è ancora in fase di sperimentazione potrebbe diventare un deck veramente mostruoso un incubo bene andiamo a vedere il gameplay poi passeremo all'analisi del mazzo molto bene allora inizio col dirvi che la win condition principale nasce proprio dall'inserimento del carceriere la nuova carta del set del mini set che costa 10 mana è un 10 10 che distruggerà tutto il nostro mazzo ma renderà immuni tutti i nostri minion tutte le nostre creature immuni vuol dire che non potranno essere affette da magie non potranno essere danneggiati dagli attacchi del potere eroe o dei nemici e l'altra carta fondamentale è una vecchia leggendaria di grand torneo wolf scudo saldo wolf assorbe i danni presi dal nostro eroe e diventando egli stesso immune ci renderà pressoché immortale quindi il mazzo ci permetterà di avere creatura immortali ed un eroe immortale e l'unica cosa che potrà fermarlo questo mazzo è una trasformazione di massa oppure una magia come urlo psichico del prete che quindi annullerà le creature in campo oppure una distruzione di massa come quella dello stregone insomma ci sono alcune via di uscita altrimenti il deck sarebbe inarrestabile io ho optato per un deck da 40 carte ma penso che anche un deck da 30 possa andare bene vi ho detto lo sto ancora rifinendo ci studierò intanto ve lo presento come avete visto un'altra minaccia per questo deck sono i topi di fogna che andranno ad evocare dalla nostra mano una creatura annullando così il grido di battaglia del carceriere questo deck però non ha solo quella come win condition abbiamo anche poi appunto i jade golem i golem di jada perché una volta che il nostro deck sarà completamente distrutto noi andremo ad inserire nel deck grazie alla spell aumana idoli di jada su idoli di jada per evocare sempre più minion enormi per fare questo abbiamo anche una leggendaria che è fandral e il mocerbo che andrà a unire i due effetti della carta idolo di jada quindi metteremo nel mazzo tre idoli di jada e nel frattempo evocheremo anche uno stesso golem di jada in campo se non dovesse bastare abbiamo denatrius da usare in combo con bran come si è visto nel ramp drui di questi giorni e per finire abbiamo anche yogsaron maestro del fato se proprio le cose dovessero andare male per il resto questo è un deck che pesca molto fa molta armatura proprio per resistere agli assalti dell'avversario come potete vedere dall'andamento della partita per ora non è andata molto bene perché stiamo pescando relativamente male però stiamo resistendo molto bene agli attacchi del nostro avversario qui ci ha appena fatto calare denatrius un bel 10 10 a turno 7 ma può solo che farci piacere perché abbiamo schivato un pericolo ovvero quello che ci togliesse la nostra win condition principale bene ora che il nostro avversario ha giocato entrambi le talpe di fogna dovremmo essere abbastanza sicuri dobbiamo soltanto arrivare ai mana necessari per evocare sia il carceriere che wolf e credo proprio che la partita sarà nostra ovviamente per difenderci dall'assalto dei nostri nemici abbiamo carte come la piaga quella magia che evoca scarbei 1 5 con provocazioni che è veramente utilissima contro qualsiasi mazzo aggro e che ci andrà nel caso avessimo in mano denatrius ce l'andrà a potenziare moltissimo denatrius che fornisce sia una win condition che un ottimo reintegro di energia di punti vita come avete visto purtroppo il nostro yoxaron è stato buttato giù dalla talpa di fogna ma non è un problema perché la nostra win condition principale è rimasta intatta adesso non ci resterà che pescare le carte per la combo e poi vedere come reagirà il nostro avversario ovviamente carta fondamentale per la buona riuscita del nostro piano è la carta eroe gaff che ci permetterà di arrivare a 20 mana nonostante sia stato nerfato ultimamente un'ottima strategia come potete vedere nel deck io ho l'arma leggendaria che mi permette di scegliere la carta da pescare normalmente però si usa in un altro modo perché c'è un'altra arma leggendaria ovvero quell'arma che una volta distrutta ci rifornirà di altri 10 cristalli di mana ecco se noi equipaggeremo prima quell'arma e poi la andremo a spaccare con l'arma che ci permetterà di scegliere la pescata avremo uno sprint nei cristalli di mana che ci permetterà di surclassare l'avversario o comunque ci permetterà di continuare a giocare le nostre carte è un'ottima strategia però in questo caso visto che mi serviva di trovare le carte giuste ho preferito usare l'arma a umana va bene lo stesso perché comunque come potete vedere avevo bisogno di trovare le risorse giuste per contrastare gli attacchi del mio avversario come vi dicevo all'inizio è un deck che sto rifinendo voglio sperimentare anche la versione a 30 carte e che potrebbe essere anche migliore di questa perché andrò a snellire il mazzo e potrò pescare prima le risorse per chiudere la combo anche se penso che potrei essere più vulnerabile togliendo magari qualche minion più vulnerabile a effetti come quello della talpa di fogna o anche a quello del robottino che mi evoca un minion dal mazzo però sono i rischi dei combo deck questo è essenzialmente un deck combo perché si basa sul giocare un minion che poi un paio di minion che poi andranno completamente a chiudere le possibilità di vittoria del mio avversario ecco finalmente il carceriere quindi ci siamo quasi continuiamo a pescare come potete vedere abbiamo tante tantissime carte del formato selvaggio ecco l'arma e arma fare armatura resistere insomma è un deck un po' lento ma l'effetto è devastante ho già fatto un bel po' di partite nel formato selvaggio per testare le carte qualche modifica l'ho già fatta e devo dire che quando l'avversario si vede giocare la combo carceriere più wolf e non ha risposte quando se ne rende conto poi abbiamo da parte sua sempre il rage quit bene a questo punto direi di velocizzare un pochino la partita per andare a vedere il momento saliente del game ed eccoci finalmente arrivati al momento saliente abbiamo finalmente pescato wolf quindi siamo pronti per giocare la nostra combo non prima di aver pescato e fatto un po' di armatura non si sa mai che il nostro avversario riesca in qualche modo a rimuovere i nostri minions ecco il carceriere e poi wolf come vedete ha distrutto completamente il nostro deck ma ha reso immuni i nostri minion avendo wolf in campo di conseguenza anche noi saremo immuni a qualsiasi attacco se questo non dovesse bastare abbiamo i golem di giada al nostro servizio per rimpinguare il nostro mazzo con fandral semmai il nostro avversario dovesse riuscire ad eliminare il cancelliere e scusate il carceriere e wolf piccolo lapsus vediamo che non se ne capacita non si rende ancora conto poi la combo è molto nuova quindi potrebbe essere ancora sconosciuta alla maggior parte dei giocatori vediamo il nostro avversario che ci pensa ci ripensa inutile non ha risorse non ha risorse per contrastare il nostro deck vediamo che ha ucciso soltanto i suoi minion scusate ma ho dovuto fare quello di stupore ci stava attacca la faccia ma la nostra faccia è immune grazie al potere di wolf ecco neanche i danni da fatica ci fanno qualcosa grazie a wolf è incredibile quella carta mai usata fino adesso quel minion leggendario inutile adesso ha il suo momento di splendore assoluto e via fandral in campo attiva entrambi gli effetti dell'idolo di giada quindi minion in campo e carte nel mazzo per creare un esercito di giganti di giada continuiamo a pescarli grazie al potere eroe alle carte che abbiamo in mano abbiamo creato una bella board di creature immortali noi stessi siamo immortali e voilà il nostro avversario si ritira dalla lotta come vi dicevo ho anche montato una versione da 30 carte dove ho eliminato alcune carte che ritenevo superfule per esempio abbiamo il abbiamo ancora gli oxaron ovviamente il carceriera diffusione della piaga eccole wolf guf cuore selvaggio abbiamo tolto per esempio la spell da umana che ci fa rampare che fa rampare noi il nostro avversario poi abbiamo tolto la spell che raddoppia le magie che utilizziamo insomma ho fatto un po' di pulizia per vedere di pescare la nostra combo mortale con un po' di anticipo attualmente si sta rivelando abbastanza efficace ma devo capire qual è dei due deck il mazzo con il win rate più alto bene mi lascerò i codici di entrambi i deck nei commenti fatemi sapere se il deck per voi funziona quale dei due secondo voi è quello meglio o se ci sono delle modifiche che vorreste apportare che voi pensiate possano rendere il deck ottimale questo è tutto ricordate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se il canale vi piace ci vediamo presto